Salve amici di AdventsItalia, in questo video andremo a vedere la prova di produzione scritta dell'esame CILS livello B2, certificazione di italiano come lingua stagnera. Si tratta di una prova del dicembre 2013 che dura un'ora e dieci minuti. Avete due temi da scrivere, prova numero uno e prova numero due. Il primo è un saggio, mentre il secondo è una sorta di lettera o mail. Andremo a mettere nei dettagli perché io ho risolto entrambe le domande, entrambe le prove e vi farò vedere come ho fatto dandovi anche alcune indicazioni importanti. Cominciamo con la prima. Racconta un episodio della tua infanzia o della tua adolescenza che ricordi volentieri, devi scrivere da 120 a 140 parole. Allora, io ho scritto 128 parole, quindi nel limite indicato. Ho cominciato introducendo generalmente le esperienze, cosa comportano per noi esseri umani le esperienze, ad esempio. Poi ho parlato del mio caso, nel paragrafo principale, analizzando per bene ciò che voglio dire ed infine ho concluso con un'idea generale che riassume tutto il mio tema. I ricordi di una persona sono spesso utili a capire il percorso di crescita fatto nel corso degli anni e aiuta molto a riflettere. Quando avevo 15 anni ho vissuto un anno a Toronto e questa è stata una delle esperienze più belle e formative della mia vita. Ricordo sempre con piacere tutte le amicizie che ho fatto lì e i posti che ho visitato. Uno dei benefici maggiori del mio soggiorno in Canada è stato proprio quello di migliorare il mio inglese. Questo ha facilitato moltissimo i miei studi universitari, essendo molti dei libri che devo studiare in inglese. Le esperienze aiutano a crescere e a migliorare. Per questo bisogna sempre essere aperti a questo tipo di esperienza e non avere paura di apportare cambiamenti nella propria vita. Secondo caso si tratta, come vi ho detto, di una mail. Un'agenzia per il lavoro di Torino seleziona personale con o senza esperienza per lavori temporanei nei villaggi turistici, resort, hotel in Italia e all'estero. Scrivi all'agenzia e proponi la tua candidatura. Devi scrivere da 80 a 100 parole. Io ho scritto 90, anche qui nel limite indicato. Attenzione, scriviamo al responsabile di questa azienda, quindi una persona che non conosciamo, non è nostro amico, quindi mail o lettera formale. Dobbiamo dargli del lei. Si comincia sempre con gentile signor X e si conclude con cordiali saluti il vostro nome. Io ho introdotto, mi sono prima introdotto, ho introdotto me stesso, ho scritto perché mi interessa lavorare per questa azienda e infine ho concluso ringraziando in anticipo per la risposta che riceverò. Gentile signor Neri, mi chiamo Marco Gori e sono uno studente di ingegneria del terzo anno della triennale. Sto cercando di trovare un lavoro da fare durante l'estate e ho visto per caso gli annunci della sua agenzia. Mi interessa particolarmente il lavoro come guida turistica siccome parlo bene la lingua inglese e quella tedesca. Ho anche abbastanza esperienza in questo settore perché ho lavorato per alcuni mesi part time in un resort. La ringrazio della sua mediazione e rimango in attesa di una risposta da parte sua. Cordiali saluti Marco Come potete notare anche qui è importante la divisione dei paragrafi come nel primo caso. Bisogna cercare di dividere i paragrafi a seconda di ciò che dite in ciascun paragrafo. Perché non potete mettere sia introduzione di voi stessi, domanda di lavoro e ringraziamento tutto insieme perché non ha senso, è confusionario. Per questo si usano i paragrafi e la divisione in paragrafi è uno dei fattori principali che gli esaminatori valutano in questi esami. Fate molta attenzione quindi a questo. Se avete domande scrivetemi pure un commento, sarò lieto di rispondervi il prima possibile. Vi ringrazio per la vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!